Sono Domenico Manca, amministratore della San Giuliano di Alghero in Sardegna. La nostra attività parte dal 1916 per merito di mio nonno e continua poi con mio padre, il sottoscritto, che cerca di portare avanti l'azienda nel tempo, cercando di uscire già ciò che sono i canoni locali per andare oltre il terreno e poi superare gli oceani. Ad oggi l'azienda lavora in tutto il mondo, ne prosegue l'attività Pasqualino, che è mio figlio, che ha contribuito in modo notevole a far sì che la San Giuliano venisse conosciuta in tutto il mondo. Sono Pasquale Manca, assieme a mio padre Domenico gestiamo la San Giuliano di Alghero. Ci troviamo in un contesto bellissimo, un oliveto tradizionale, dove raccogliamo le olive tra ottobre e novembre. Le olive vengono raccolte attraverso delle macchine che si chiamano scutitrici e non toccano mai terra. Gli olive finiscono poi nel nostro frantoio aziendale nel giro di pochissime ore, perché la freschezza del frutto è fondamentale per conferire le migliori caratteristiche all'olio. Ci troviamo sulla muraglia di Alghero, nel centro storico della città, ed è proprio qui che nasce il primo frantoio della famiglia Manca, esattamente via Giubelferretti. Un frantoio artigianale, si direbbe oggi, con le presse, attrazione animale, con le molazze. Oggi quel frantoio non esiste più, perché nel frattempo ci siamo trasferiti a San Giuliano, da cui deriva il nome del nostro marchio. Quell'attività artigianale è diventata oggi un'azienda verticalmente integrata, che controlla tutte le fasi produttive, dalla raccolta all'imbottigliamento. Ha assunto nel frattempo anche una carattura internazionale, pur mantenendo fortissimi i legami con il territorio. Una fase altrettanto delicata dopo la lavorazione in frantoio è la conservazione degli oli, che noi stocchiamo in silos di acciaio AESI 316 in atmosfera modificata. Questo frantoio, a differenza di quelli tradizionali, ci consente di lavorare in assenza d'ossigeno e a basse temperature, e preservare così le nobili caratteristiche del frutto dell'olivo, che poi ritroviamo in maniera molto importante nei nostri oli. La famiglia Manca, da quasi un decennio, ha deciso di investire in agricoltura, e più precisamente nell'olivicoltura moderna, avviando il progetto Novo Olivo. Il cuore del progetto è l'incremento delle varietà d'olivo, grazie al quale possiamo offrire un più ampio assortimento di gusti e sapori per i nostri oli. Piantare i nuovi oliveti rappresenta la realizzazione di un sogno, di un grande sogno che risale ai miei bisnonni, da cui deriva la nostra tradizione olivicola. A questa tradizione oggi coniughiamo la tecnologia di innovazione. È un sogno che diventa sempre più concreto, ogni giorno diventa sempre più concreto, ed è un sogno che vogliamo condividere con tutti voi. San Giuliano, orgoglio di Sardegna San Giuliano, orgoglio di Sardegna